Prima uscita per i due presepi viventi in provincia di Arezzo, entrambi in Valdichiana. Qui siamo ad Oliveto, borgo del comune di Civitella in Valdichiana. I vari mestieri sono stati ricostruiti grazie alla partecipazione di tutta la comunità. Si replica il 26 dicembre dalle 15.30 alle 19.00. Ed è tornato il presepe vivente anche a Castiglion Fiorentino. Qui mancava da due anni per via della pandemia e questa è la trentesima edizione. Nelle vie del comune della Valdichiana tutta la magia del Natale. Il presepe ha fatto riscoprire ai visitatori le caratteristiche strade e piazze del paese spesso dimenticate. In un percorso che a partire da piazza del comune giunge fino alla capanna della Natività con la Sacra Famiglia nei pressi di piazza Sant'Agostino. Una particolarità, Maria per l'appuntamento del 18 era giustamente ancora in dolce attesa. Mentre per il prossimo appuntamento il bambinello sarà nella capanna. Anche in questo caso si replica il 26 dicembre a partire dalle 17.00.